Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, come potete vedere c'è una piccola sorpresa, ve l'avevo promessa, ecco a voi il tanto agognato microfono Finalmente facciamo un passo in avanti per migliorare la qualità di questo canale, e mi sono detto perché non battezzarlo subito E lo battezziamo con il ritorno di DentiGit, la rubrica con cui vogliamo cercare di descrivere i calciatori che arrivano nel campionato italiano E capire quello che possono dare nella loro nuova squadra di appartenenza Quest'oggi voglio parlare di Gaston Pereiro, centrocampista trequartista arrivato al Cagliari dal PSV in questo mercato di gennaio E un giocatore che pare dotato di gran tecnica e gran fiuto del gol Tanto da essere denominato un ottimo colpo per la squadra di Giulini che con lui vuole cercare di arrivare definitivamente nella zona europea nel centesimo anno della propria società Gaston Pereiro, centrocampista uruguagio, trequartista uruguagio, 10 presenze e 4 reti con la nazionale uruguaggia E nella squadra del PSV, per cui ha giocato per 4 anni e mezzo, ha segnato ben 49 reti condite da 21 assist in ben 154 presenze Chiede le referenze ad esempio a Irving Lozzano, giocatore che ha giocato per tempo assieme a lui sulla trequarti in attacco nel PSV Un giocatore che nell'ultimo anno e mezzo è stato accostato spesso a squadre italiane come Fiorentina, Napoli e Milan Ma che negli ultimi sei mesi non ha giocato tantissimo con la squadra di Mark Van Bolmel Che l'ha messo fuori squadra per via della non volontà di rinnovare il contratto Dovuta anche a un infortunio alla clavicola, per una frattura o per essere precisi Che lo ha tenuto fuori nella prima parte di campionato A un certo punto Perero ha sentito l'esigenza dunque di cambiare aria e ha scelto Cagliari Che è una piazza che ha sempre ben portato ai colori uruguaggia Basti pensare a Enzo Francescoli E a due giocatori che in questo momento stanno vestendo appunto la maglia dei cagliaritani come Nandes e Oliva Arrivano ottime referenze sul giocatore Il suo ex tecnico al Nazionale di Montevideo, colui che lo fece debuttare a 19 anni in prima squadra Disse di lui che aveva un sinistro che canta E' stato paragonato da molti ad Alvaro Recoba Un giocatore passato anche per l'Inter E lui stesso dice di avere Recoba come idolo E lo stesso Cino considera il giocatore, considera Perero come un possibile campione Dicendo che può arrivare più in alto di quello che lui stesso è riuscito a fare nella carriera Ricordiamo che i due hanno giocato assieme nell'ultimo anno di carriera da parte del Cino Poi c'è stato il viaggio in Europa da parte di Perero che è riuscito a sgomitare nel campionato olandese Un'altra persona che tesse molto bene le lodi del giocatore è Oscar Tabares Il classico tecnico della Nazionale, uno dei più grandi allenatori uruguaggi della storia Definendo che è puro istinto e raffinatezza Dicendo di lui che delle doti tecniche atletiche fuori dal comune E di non aver mai visto un connubio di coordinazione e tecnica tanto alto In un ragazzo appunto così alto, scusatemi il gioco di parole Così alto perché Perero è un trequartista di quasi 190 cm Dotato però, come dice lo stesso Tabares, di un ottimo atletismo E soprattutto di un gran sinistro Con cui, abbiamo detto, ha segnato tanti gol nella sua avventura in Olanda La domanda che ci si pone è Come potrà incidere però nel destino del Cagliari Che sembra aver trovato la quadratura del proprio cerchio Con Nainggolan dietro le due punte Cioè Gio Pedro alla sua miglior stagione della carriera e Simeone Questo cerchio potrebbe trovare la prima quadratura Perché Perero può essere un'alternativa sia a Nainggolan Che a Gio Pedro, può giocare sia trequartista che seconda punta Ma non si esclude che Rolando Maran possa arritrare Nainggolan in mediana Visto anche qualche piccolo problemino da parte di Rogue Che sta giocando sempre meno partite per via di qualche acciacco fisico E potrebbe schierare lo stesso Perero sulla trequarti Dietro Gio Pedro e Simeone È un acquisto sicuramente molto importante per i Rosso-Blu Che puntano sul proprio giocatore Puntano su questo giocatore per arrivare appunto in zona europea Con questo vi saluto Spero di essere stato esauriente con la descrizione E vi mando un grande abbraccio E ci vediamo a un prossimo video Ciao Ciao